Quando William McCrum, savio portiere dell'Everton, a fine ottocento chiese alla federazione inglese di istituire una punizione diretta in area, intendeva arginare l'irruente vehemenza dei suoi compagni, non certo firmare il primissimo scorcio di campionato del Bitonto. Sconfitti di rigore, infatti, con l'Andria e il Taranto, vittoria sempre dal dischetto, doppio, col Molfetta. Ma sarebbe riduttivo parlare di dipendenza dei penalti dei neroverdi, perché la prestazione è stata imperiale, rotonda, convincente. Mista Nicolaragno sfoggia i suoi gioielli, petta e Siria dirigere la consuita diga alle folate altrui, capeci direttore d'orchestra e il piccolo grande gladiatore Mariani a battagliargli accanto, e ne acquisto Pozzebonna a giocare di sponda col Capitan Lattanzio. Il collega Bartoli replica con Diallo e Romano a presidiare il reparto arretrato, Gogovski a cucire la manovra, Lavopa e Afri a pungere dietro Trigiani e Migiano. Che l'aria sia cambiata lo si avverte subito, due minuti e gol di Petta annullato per un non meglio identificato a Ciaccapesta in area. Tre minuti dopo sponda preziosa di Pozzebonna e botta velleitaria di Mariani. Al quarto d'ora contrasto dubbio fra Lavopa e Mariani interpretato da Dalli Carpini di Sernia come fallo in attacco. Al ventiduesimo ci riprova Flebile, Mariani, Matucci a branca Serafico in presa. Minuto ventotto, Capece da destra e inzuccata di Petta, di poco alta. Alla mezz'ora di Cecco pennella per Pozzebonna, stoppa e stilura al volo. Traversa che ancora trema. Nella ripresa medesima solfa. Meno di 60 secondi e cross in fido di Palmisano con sfera che si adagia sulla rete superiore della porta. È il decimo quando Pinto fa accomodare sul prato l'ex Biancorosso, suspizzata di Lattanzio. Dagli undici metri il puntero Bucatucci, che pure aveva intuito. Punizione dalla tre quarti di sinistra al ventesimo, cuoio vagante in area neroverde. Pinto controlla e piazza un mancino venenoso che sbuca fuori da una selva di gambe, batte sul palo e beffa figliola. Pareggio degli ospiti alla prima occasione. Al ventiseiesimo dialogo geometrico sulla sinistra, fra Piarulli e Lattanzio. Sfera al volenteroso Nannola che viene contrato dal muro Biancorosso. Alla mezza lancio morbido e chilometrico di Sirri, Magia di Taurino, Nannola sinculinaria e Afri lo stand. Ancora penalty e realizzazione in copia carbone per l'attaccante andriesi. A cinque dal termine giro di lancette di Gloria per il trequartista brevilineo. Prima folleggia sulla fascia destra e Tucci in uscita disperata lo scherma. Poi si avvita in una mezza girata artistica, cuoio sul fondo. Infine in pieno recupero, fiato e battiti del cuore sospesi per una mischia furibonda dinanzi a Figliola. I guantoni del portierino e il fischio dell'arbitro serrano in cassaforte i primi tre punti per il bitonto.